Poi arriva il 1950 TESTO! E' I CHICKSTAY! FICCHI FICCHI POR ME! Facciamo FICCHI FICCHI! Ma bello che poi Dio sembra quasi divertirsi, no? E prende in giro Gesù. Allora Gesù va per mangiare la ciccia baffetta perché l'albero doveva dare la ciccia baffetta. Era la stagione della ciccia baffetta ma non trova ciccia solo il penudo. E allora Dio dice Sei proscio! Ed era riferito a Israele! Pazzesco ragazzi, ma come si fa? E a Dio separò le acque e a Dio separò le acque e dice le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca un prosciutto. Ebbene, signore e signori, cominciate a prendere il cazzo eccezionale. Signore e signori, questo è Mario Schifano in una delle cose più belle che siano passate da telemarket. L'opera in visione si intitola Energia. è talmente materica perché anche questa è realizzata con colore ad olio a smalto l'amsoi lo dai lo lo dovrà togliere i 50. Vuol dire? 500 euro al netto. 500 euro, signori. Signore e signori, io portarvi un'opera a 20 faccio la stessa fatica. Quest'opera non vale un cazzo eccezionale non può costare 5 euro, eh. Gioiamo un'all'orlando maio su mano lo non amo, su una fisse dai mimon. Guarda qua! Energia! Non compro niente Alessandra perché ti odio. Va bene odiami affari tuoi. Beh, smettiamola di dire queste sciocchezze.